È accusato di aver adescato ragazzine minorenni, per questo i carabinieri hanno denunciato un sessantenne di origini est-europei da tempo residente a Sansepolcro. Le indagini erano partite dopo diverse segnalazioni da parte di adolescenti. Il sessantenne infatti si sarebbe aggirato nei pressi del centro commerciale Valtiberino, dove avrebbe tentato di avvicinare ragazze sui 15 anni, lusingandole con apprezzamenti e poi offrendogli da bere per giungere infine a proposte sessualmente esplicite dietro la promessa di regali. L'ultimo episodio risalirebbe solamente a qualche settimana fa. Fondamentali in questo caso sono state le telecamere di videosorveglianza, grazie alle quali gli investigatori sono riusciti a risalire ai movimenti e soprattutto all'identità dell'autore del gesto. L'uomo è stato così denunciato alla procura di Arezzo.